Musica Amici di Mondo Futsal, benvenuti alla finalissima dello Young Boys Di fronte, Maglia Rossa, Farmacia Sacripanti contro Ciurrasco Riparte Sbocchi da sinistra, pallone messo al centro E c'è il vantaggio, 1-0 per Ciurrasco Nicolani C'è lui che scucchiaia, questo pallone interessante Attenzione, il pareggio da parte di Cece Il pareggio di Farmacia Sacripanti con Cece È pronto Nicolani Va Nicolani con il destro E c'è il 2-1, la bordata del numero 4 Porta avanti Farmacia Sacripanti, 2-1 Ottima l'azione, la percussione da parte di Milani Per la penna, porta vuota la penna La parata da parte di San Marco che si salva Venturiero Sbocchi, se ne va da sinistra Prova a deludere l'intervento dell'avversario E riesce a depositare il rete per il pareggio del Ciurrasco Grande azione di Yuri Sbocchi da sinistra Nicolani contro San Marco Ma Nicolani e stavolta San Marco gli dice di no Sbocchi per Rosiano C'è il vantaggio, 3-2 del Ciurrasco Proprio sul finire del primo tempo Attende solamente il fischio direttore di gara Rosiano Va alla conclusione con il destro Colpisce il palo Sbocchi da sinistra Prova a mettere il pallone sul piede preferito Ancora Sbocchi Gran gioco di prestigio Fa la conclusione C'è il vantaggio Anzi no C'è il quarto gol Da parte del Ciurrasco Con il venturiero Ancora Sbocchi per Rosiano Libera benissimo da sinistra 5-2 Rosiano Con la punta del piede destro Nulla può Luccone E c'è il gol Del 6-2 Firmato da Patane Più 4 Poi Cece con il destro E il palo Favolaterale per Sacripanti Da destra E in fermata Sbocchi Solo anzi a partire Lo dribbla Sbocchi 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 7-2 Yuri Sbocchi 7-2 Attacca la formazione da Sacripanti Con Cece Da destra Cece Si gira San Marco dice no Poi Sartini Con il destro Fulmina numero 12 Il calcio d'angolo Poi Micolani Può centrarsi Ancora Micolani Pallone per Cece Libera al destro Cece 7-4 Accorcia Di nuovo le distanze Di prima per Micolani Prova a passare In mezzo a due Ci riesce Micolani Al centro per Cece Con il destro E il palo Colpito Dal numero 8 Attacca A testa bassa La formazione da Sacripanti Sbocchi Riconquista il pallone Milani Poi lo ruba Poi Sartini Con il sinistro 7-5 Pallone che non passa Sbocchi lo riconquista Attenzione a 3 contro 2 Da parte del ciurrasco Con il pallone Scaricato in porta Da Venturiero Commette fallo su Milani Su Milani Poi Cece Con il destro San Marco Attenzione a Sbocchi Ottimo controllo Sbocchi E il doppio palo Incredibile Da parte di Yuri Sbocchi La ripartenza veloce Da parte della farmacità Sacripanti Con Sartini Che va fino in fondo Sartini Pallone che termina in gol Pronto Micolani con il destro E accorcia ulteriormente le distanze E finisce qui la sfida Vince 8-7 Il Luè Ciurrasco E conquista l'edizione 2015 Dello Young Boys